in america viene commesso un furto ogni 11 secondi un'aggressione ogni 65 secondi un reato di sangue ogni 25 secondi un omicidio ogni 24 minuti e 250 violenze carnale al giorno non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che pizza che sei. Grazie a tutti. 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 You... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ... 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